Oggi parliamo dell'incenso. Non si parla tante volte dell'incenso ed è una cosa triste perché l'incenso è il tributo che si tributa a Dio, l'onore che si tributa a Dio, è riservato alla divinità. Andiamo a scoprire, utilizzando il libro Il tesoro della tradizione, la guida completa, la messa in latino, che cos'è l'incenso e come si usa. Siamo alla pagina 22 di questo manuale preziosissimo, illustrato, pieno di foto d'arte, di spiegazione, di curiosità, per capire com'è, che cos'è la messa, cosa sono gli strumenti, gli oggetti, i paramenti, i vestiti della Santa Messa. Così come Maria Maddalena unse i piedi di Gesù con un unguento prezioso, anche noi avvolgiamo in una suave fragranza la nostra offerta e tutti coloro che vi partecipano. Durante la messa solenne le offerte e tutti i presenti vengono incensati, allora le offerte e le stesse persone vengono incensate. La parola incenso deriva dal latino incendere, che significa bruciare. L'incenso è una resina aromatica derivata dalla linfa della pianta bosveglia e il suo uso è molto antico. Poiché doveva essere importato da terre lontane era un'offerta molto costosa e un dono appropriato per il re dei re. È singolare come oggi tanti preti facciano estremamente fatica a usare l'incenso. Non credo che sia una questione economica, temo che sia una questione ideologica. Oh, puzza di vecchio! Come puzza di vecchio un profumo delizioso! La partecipazione anche olfattiva alla Santa Messa è una delle dimensioni di partecipazione alla liturgia. Quella la vogliono escludere perché vogliono una liturgia che passi solamente attraverso la mente e non attraverso la sensibilità. L'incenso veniva bruciato due volte al giorno su un altare speciale del Tempio di Gerusalemme e una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, i carboni di questo altare venivano portati in un turibolo o incensiere con due lanciate di incenso. Nel Santo dei Santi, lì dove c'era la menorà, il candelabro a sette braccia, la scatola con dentro le tavole della legge e alcuni pezzetti della manna del deserto. Lì venivano bruciati durante una cerimonia solenne davanti al propiziatorio dell'arca dell'alleanza, laddove dimorava la shekinah, ovvero la presenza del Signore. La shekinah, che al prove sempre nel libro della Genesi è rappresentato da una colonna di fuoco che accompagna il popolo lì di Israele, è il segno visibile della presenza di Dio lì nel Tempio che accompagna il suo popolo e via di seguito. Bene, l'incenso veniva dunque del Tempio di Gerusalemme utilizzato per fare questi riti nel giorno dell'ispiazione del Yom Kippur o negli altri momenti che abbiamo letto finora. Allora è una resina odorosa molto preziosa che messa sopra del carbone emana un profumo soave. Libro dell'Apocalisse, andiamo a guardare una delle tante citazioni bibliche che riguardi, questa volta quindi le neotestamentarie, che riguardi l'incenso. Apocalisse 8, 3, 4. Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi. Quindi c'è questa unione tra l'incenso e la preghiera dei santi che è quasi uno che significa l'altro, uno che si unisce all'altro, quindi l'incenso come una forma di preghiera che però evidentemente non può essere esclusivamente sostitutiva della preghiera una e l'altra. Nelle messe solenni vengono incensate le offerte del pane e del vino, l'altare, tutti i presenti. Perché? Perché il pane e il vino diventeranno corpo di Cristo, quindi Dio. L'altare perché l'altare riceverà il corpo e il sangue di Cristo, Dio. E l'altare è Cristo stesso tra le altre cose. E anche i presenti, e tra l'altro si incensano anche nel funerale anche i cadaveri dei cristiani. Perché? Perché sono stati tempio di Dio, sono stati luogo della presenza di Dio. E i presenti che partecipano alla Santa Messa, se sono in grazia di Dio, sono tempio vivo di Dio e quindi anche loro meritano di essere incensati. E la preghiera che si fa è per l'intercessione del beato Arcangelo Michele, che sta alla destra dell'altare dell'incenso, e per quella di tutti i suoi eletti il Signore, si indegni di benedire, e c'è la benedizione, questo incenso e accettarlo come suave profumo per Cristo nostro Signore. Poi, una volta che il prete riceve il turibolo dal chirichetto, incensa il pane e il vino e dice, o Signore questo incenso da te benedetto salga fino a te e discenda su di noi la tua misericordia. C'è questo doppio moto, dall'uomo verso Dio e da Dio ci si aspetta la sua benedizione. Incensando l'altare, il sacerbote recita le parole del Salmo 140. Signore, la mia preghiera salga come incenso al tuo cospetto, poi tutto in latino, dirigatur, domine, orazio, omea, sicuti incensu in cospetto tuo. Le mie mani alzate siano come l'offerta della sera. Custodisci, o Signore, la mia bocca e sorveglia le mie labbra. Non permettere che il mio cuore trascenda a maliziose parole e a cercare scuse ai peccati. Quante volte questo avviene? Cercare scuse ai peccati, cercare giustificazione per le proprie defaianze, diciamo così, morali, addirittura facendone un vanto. Poi il sacerdote, passando il turibolo, cioè l'incensiere al diacono, dice accenda il Signore, accendat in nobis dominus signem sui amoris, et flammam eterni caritatis, amen. Accenda il Signore il fuoco del suo amore e la fiamma dell'eterna carità. Ecco, e quindi di seguito il diacono va e incensa il popolo di Dio, dopo aver incensato lo stesso sacerdote, perché il sacerdote è segno visibile della presenza di Cristo e sta operando, soprattutto nella Santa Messa, in persona a Cristi. Ecco, queste sono gli utili. Poi vi ho già fatto accenno all'uso che si fa dall'incenso per i cadaveri dei morti cristiani, perché sono stati tempi di Dio e torneranno ad esserlo quando ci sarà la risurrezione della carne. Poi viene incensato anche il libro degli Evangeli che vengono letti prima della lettura del Vangelo. Perché? Perché il Vangelo è parola di Dio ed è presenza viva di Dio, lì, attraverso la proclamazione. Non perché è un libro, ma perché è un libro che viene letto e proclamato. È parola di Dio quella che viene proclamata all'interno della Chiesa, è interpretata autorevolmente dalla stessa Chiesa attraverso l'omedia del sacerdote, del vescovo o di quello che sia in quel momento che lo faccia autorevolmente. Quindi non è l'oggetto libro che viene incensato, ma l'oggetto libro in quanto libro che si utilizza della celebrazione liturgica cattolica in comunione con tutta la Chiesa per proclamare e attualizzare nella vita di ciascuno dei presenti la parola di Dio. Per l'incenso si usano degli strumenti e gli strumenti sono l'incensiere. Se andiamo nella parte di questo libro finale, quella dedicata al glossario e indice ragionato dei vari oggetti, riparamenti liturgici eccetera, troviamo l'incensiere detto anche Turibolo. Il Turibolo è un recipiente metallico sospeso a catene in cui brucia l'incenso durante la celebrazione della Messa Solenne, dei Vespri, della Benedizione Eucaristica, di altri uffici solenni della Chiesa. Ecco, poi andiamo alla pagina 23 in romano e vediamo cosa ha ancora da dirci questo bel testo e troviamo l'immagine di questo bellissimo Turibolo incensiere che si accompagna sempre con la navicella. Viene fatto oscillare con la catena per disperdere il fumo aromatico, per diffonderlo. Accanto ad esso si trova la navicella nella quale viene conservato l'incenso e con un cucchiaino viene preso e messo dentro al Turibolo o incensiere nel quale si trovano i carboni ardenti. Oggi si trovano addirittura delle specie di dischetti di carbone che si accendono anche molto facilmente, una volta si usava del vero e proprio carbone di legno che veniva acceso per tempo. Ecco, questi sono gli strumenti che servono quindi per la liturgia. Sono un bel segno, un segno dell'amore a Dio, dell'onore che gli tributiamo attraverso questi incensi aromatici preziosi e della nostra partecipazione anche sì olfattiva alla liturgia, perché noi non siamo degli intellettualisti che guardano solamente all'essenziale e dimenticano l'accidentale e il materiale. No, noi siamo fatti di anima, di intelligenza e di corpo e anche il corpo partecipa alla liturgia, partecipa con gli occhi guardando una bellissima chiesa e non quegli orrori moderni di cemento orrificante, con dei dipinti fatti dall'amico del parroco che a 70 anni andando in pensione si improvvisa pittore e fa delle croste orrende e mette delle cose che francamente non hanno nulla di sacro, ma con dell'arte sacra che richiami alla preghiera, alla santità. Noi partecipiamo alla Santa Bessa guardando anche la bellezza quindi della chiesa con i suoi addobbi, paramenti sacri, gli oggetti sacri belli, non quegli calici orrendi moderni che sono fatti da degli architetti che veramente sono una cosa dissacrante, ma delle cose che abbiano una decenza, una bellezza, un fascino che richiama a ciò che andranno a contenere gli stessi paramenti sacri dei sacerdoti e tutto questo insieme anche all'incenso che richiama sia visivamente la nube dell'occultamento di Dio, ma che nell'occultamento anche si rivela, ma anche il profumo, il profumo della santità e il trimuto che si dona alla divinità, la divinità presente nel cielo, presente sull'altare, presente nella parola di Dio, presente nel sacerdote, presente nell'assemblea presente nel corpo divenuto cadavere che tornerà a rivivere dopo il giudizio universale quando riprenderanno vita tutti i corpi dei morti, chi sarà giudicato, quelli che saranno nella vita eterna per un'eternità gloriosa e quelli invece i dannati per un'eternità di dolore, di odio, di disperazione. Ma poiché quel corpo è stato tempio dello Spirito Santo, se si salverà, tornerà ad essere pienamente tempio dello Spirito Santo e quindi gli si dona già il tributo dell'incenso. Questa bellezza, questo fascino della liturgia che ci parla di eternità e ce ne parla con tanta bellezza è qualche cosa che sempre ci conquista. Questo e tanti altri temi di cui torneremo a parlare, potete trovarne il tesoro della tradizione. La nostra bellissima fede, la nostra bellissima Chiesa è colma di questi tesori che ci richiamano alla vita eterna, laddove noi vogliamo andare.